Ecco Frizz, ecco Frizz, ciao mamma mia, ecco Frizz, allora vogliamo dire la parte tua una cosa a chi non ti sta affilando per nulla amore, vieni qua mamma mia, vieni qua, metti per terra facciamo due festine amore, vieni qua, vieni qua, allora guardate dove lo sto nascondendo dunque Frizz, ti puoi dire di che cosa abbiamo bisogno, che stiamo lì nascosti in silenzio venerdì sono le 8 e mezza di sera, vieni qua mamma mia, vieni qua mamma mia, come sei con te ascolta allora, ti vogliamo dire di che cosa abbiamo bisogno, se ti vogliono bene ci siamo salvati due volte, vero mamma mia, non siamo dire nascosti allora, aspetta 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 amore, vieni qua mamma mia, vieni qua, vieni qua, vieni, Frizz, no no no, la bottiglia no, Frizz vieni, ciao stampi, ciao stampi, ecco ho portato la bottiglia, Frizz ascolta allora, ti vuoi dire che ci serve un trasportone omologato, vieni qua Frizz, Frizz, ciao stampi ciao mamma mia, ciao, Frizz allora dici, sì dopo giochiamo, vieni qua, vieni qua, dai Frizz prima che ci scoprono, vieni, 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 allora ci serve il trasportone omologato, ci serve di fare il passaporto, Frizz vieni qua, Frizz vieni qua, ci serve di fare il passaporto, ci serve di spagare la staffetta, Frizz, porca miseria Frizz, stampi, lei la mia stampi che c'ha la zampetta immobilizzata, amore guardatelo, guardatelo, vi prego, non lo fate sperdere, io non vi chiedo più nulla, questo è l'ultimo video, ok, questo è l'ultimo video, vieni qua mamma, vieni, vieni qua, allora, sta praticamente nascosto qua dentro, eh, tutti i giorni vengo, ti vieni, dammi la mamma, dammi, dammi, tutti i giorni vengo, deve raggiungere la mamma, seppure riesce arrivare a Treviso, io c'è tutto, c'è l'antirabbica, c'è tutto, c'è tutto quello che devi avere, vieni mamma, vieni, 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 vieni mamma, vieni, è stata, io non riesco a farla, che devo farla, stasera è andata così, sono alle sesta mattina, tra adozioni e cose varie, io non, adesso non potevo, non farvi salutare la Treviso, Treviso ha bisogno di andare via, ok, ero stampi, guardate come si gratta con la zampetta rotta, questo mamma, ma chi c'è, sei contenta, dai, dai, allora, ti aiuteranno, capito mamma, ti aiuteranno, eh, io ti porterò via da qua, ti porterò via da qua mamma, te lo prometto mamma, te lo prometto, capito mamma, te lo prometto mamma,